il mio nome è che se da che che se da run vuol dire consapevolezza questa vino è l'ultima scoperta del posto da dove vengo si chiama collegamento sinaptico intertemporale non siamo qui ma non siamo qui siamo in un non nuovo in un non tempo io non ci ho capito un cazzo e a scaso di equivoci non pago ogni cosa che noi facciamo nei confronti del nostro pianeta ha delle conseguenze e ci vuole il collegamento sinoptico lì interstiziale per dire sta minchiata io sto parlando della possibilità di salvarci da noi stessi pino aiuta